ragazzi 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 e sapete che quando il video inizia così ci sarà da sbellicarsi fino alla fine questo video io e Giulio partiremo alla ricerca di tesori incredibili per il mare e ci sarà da ridere fino alla fine io ragazzi credo che questo sia uno dei video migliori che sia mai uscito sul mio canale detto questo buona visione bentornati ladies and gentlemen per questo nuovo video sono sempre io Fanta90 e quest'oggi siamo tornati Giulio in un mondo completamente diverso buonasera buongiorno buon pomeriggio oggi diventeremo pirati tornerà capitano Fanto che non so se il conoscevi tempo fa capitano Fanto? Giulio ho fatto un video su Assassin's Creed c'era capitano Fanto ma oggi avrò il mio galeone personale e solo un marinaio scusa un attimo ma tu ti sei autoproclamato capitano o ti hai eletto qualcuno capitano? Giulio è la maggioranza dei voti se siamo in due il mio voto vale il 60% chi è che ha votato? chi è sto stronzo che ha votato? chi è? Giulio ho votato io il tuo voto vale il 40% quindi la maggioranza è il 60% io sono il capitano Giulio vabbè se ne fa lui le proporzioni raga vabbè dobbiamo scegliere quale nave utilizzare Giulio ok ma che cosa significa sloop più che altro? lo sloop dovrebbe essere una piccola imbarcazione tipo per poche persone con una vela vedi che fa mezza vabbè grazie lo sapevo di scrivere pure io quell'immagine che stava lì volevo un commento un po' più tecnico lo sloop è una famosa imbarcazione usata nel 1108 vabbè Giulio prendo un po' d'acqua e arrivo eh va bene va bene tanto tanto tra poco ce ne avremo molta di acqua vedrai come affonda sta nave prendi pure in secchio Luca ma perché tu hai selezionato il galeone? certo che si Giulio ma tu sei scemo ma in due come facciamo a fare il galeone? ma tu mi dici che dovevo selezionare il galeone? ma io ti prendo in giro ma ti pare che ho otto mani come faccio? riusciranno i nostri capitani a diventare capitani? speriamo di sì Giulio c'è solo un capitano e sarò io non ce ne sono due su una nave che che navi conosci? riuscirà il finto capitano Fanto no è un finto capitano quanto sei brutto? Giulio hai parlato te che sei nero? che cosa hai contro i neri? guarda che sono bellissimo niente Giulio non ho niente ma che tempo di merda che fa? dov'è il sole? senti io devo incutere terrore ma quale terrore che il massimo che fa fare è pulire il pavimento della nave Giulio? come ti mandi? oh cosa fai? oh ma ti fai la spada? non stai fermo vieni qua ti sfido a duello oh comunque Luca è il momento dell'interrogazione Luca ma prima dobbiamo trovare la nostra nave Giulio si ma io non mi imbarco con te se tu non mi risponde alle domande perché io non mi fido ma perché la nostra barca sembra un peschiereccio? ma che cos'è? perché è verde? ma perché? salto sopra aiuto a lasso notare aiuto non vedo più niente si sta portando a scuola lui è capitano ragazzi lui è capitano oh no sono caduto ma guarda qui questo è un buono bravo Giulio vuoi essere te il capitano eh Luca non è buono a notare questo ho il malus di razza Giulio stai zitto e poi ci prendono per razzisti è ufficialmente l'alba oh mio dio ma c'è un neo? ciò significa? ciò significa? è l'ombra del colo gigante Luca non mi interrompere ciò significa? guarda come fai guarda fammi venire! Giulio è giorno! non volevo partire di notte perché? ma dai sembra un peschiereccio perché è verde? ma che colore è? ma che è sta nave? sembra un'insalata del bietro di notte non si vedeva bene ma così è ancora più brutta dove vai? vieni qua mi ti devo interrogare ma non voglio essere interrogato grazie possiamo partire subito? no 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 io non parto possiamo partire subito? io non parto dai Giulio fai quello che si deve fare per partire ma cosa fa? come fai quello che devi? ma non lo sa neanche lui quello che deve fare lui si è messo già al timore e così forza tipo le macchinine dei bambini vai spingi e puzzati allora Luca oh Giulio c'è un'altra marca c'è un galeone partiamo abbattiamolo Giulio non c'è ma che abbatti? ho una banana ho una banana c'è un galeone che va a tutta velocità ma che cosa vuoi fare? Luca Giulio partire e affondare quel galeone li freghiamo tutto vai Giulio le vere le vere ma sono altri player si Giulio sono altri player muoviti ma perché dobbiamo andare contro un galeone Giulio preparati pronto ma sono giulio che mira d'inverno c'hai ma che mira c'hai ma dove fa ma dove fa sta palla di cannone dai che li stiamo per affiancare ora ci distruggono con mille cannoni vai 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 che li perdiamo e vai Giulio che li affondiamo oh cazzo ci sparano Giulio e beh ti aspettavi che loro ci guardavano Giulio li sperono Giulio li sperono Luca io non posso fare Giulio li sperono oh mio dio Giulio riparo i danni riparo i danni oh mio dio sono stato sbalzato fuori dalla nave Giulio sono stato sbalzato fuori dalla nave aiuto uomo in mare uomo in mare luca imbacchiamo acqua luca imbacchiamo acqua come porca Giulio torna qui con quella canzone con te la vesicola Luca sta affondando la nave contro i scoli sta affondando la nave ma che cazzo sta affondando la nave Luca ferma le vele cazzo la nave sono in mare non vuoi capire che sono in mare ma devi fermare quella nave togli le vele che non ti raggiungo più è inutile che punti fuori la cosa se sono in mare Giulio allora li ha salto da solo ma che sei la no no mi vuole sparare mi vuole sparare quello Giulio mi vuole sparare sono in tre su sto caleone magari ti spara madonna guarda che stilt forse non è forse non è capito sto abbordando la loro nave Giulio sono un capitano super coraggioso un capitano super coraggioso eccolo stai sulla nave arg oh cazzo no Giulio mi ha sparato arrivo da te arrivo da te Giulio sono morto dove arrivi allora forse adesso respawni sulla nave oh sono sulla nave fantasma what the fuck Luca sto arrivando da te come stai arrivando da me che vuol dire oh mio dio Giulio mi ha preso Davy Jones ma ce l'hai i tentacoli Giulio non lo so sono finito sulla nave pirata dopo che mori finito sulla nave pirata come faccio devo servire su questa nave per sempre ma io adesso che faccio con sta nave che devo fare ragazzi questa è la dimostrazione che Luca non può fare il capitano Giulio è ovvio che non posso farlo se sono morto questa è la dimostrazione Giulio vado verso la luce Giulio vado verso la luce ma tu ti rendi conto che la tua nave ti ha buttato fuori dalla sua Giulio no allora fisicamente non è stata la mia nave a buttarmi fuori Giulio è la palla di cannone che mi ha sbalzato la nave ti ripudia la nave ti ripudia e ti ha buttato fuori Luca basta oh oh Giulio fuori Luca no 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 dobbiamo farli fuori canto ci spara mazza mazza che mira che c'hai oh che devo fare vela a destra vela a destra tutta a destra eh ma devo anche sparare non posso governare la nave sparare Luca questo è il giorno in cui diventerai un vero capitano va bene Giulio almeno avrò una mira migliore della tua spero pronto Luca vai al cannone al cannone Luca devo caricarlo non ho visuale vai più a sinistra rotta più a sinistra spara Luca e vai di nuovo di nuovo di nuovo no cazzo li ho messati di posto no Giulio stavo andando arriva che fa no ho messo l'ancora vai 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 spara 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 mi sto battendo tutto guarda Giulio basta in fiori ispirati dei caraibi no devo abbandonare sto cannone se gira ci stanno sparando Giulio sono saltati sopra ho sentito dov'è è salito di me Giulio è qua dietro è salito dietro ecco Giulio benvenuto dal Davy Jones ma che cazzo di capitano sei capiamo che ha abbandonato la nave ma chi l'ha abbandonato ero sopra ha fatto fuori oh bella Davy ma sta un po' incazzato è la seconda volta che mi vede in 10 minuti grazie al cazzo che ho un po' incazzato dai Giulio andiamo in missione va andiamo sulle isole cerchiamo di fare qualcosa vai Giulio dove vai partire dove vai smollare l'ancora dove vai tu non puoi fare il capitano non puoi fare il capitano non la voglio levare l'ancora no la sta portando indietro cozzo voglio salti Giulio molla quest'ancora non hai la forza eh femminuccia oh sta uscendo il sole Giulio nuove speranze ma ci sono dei fulmini li hanno orizzonte non so se ideale vai Giulio verso l'orizzonte tu suona musica piccolo nero la cavancata delle valkyrie con il barcone peschereccio poi la cosa bella è che con questa singola fisarmonica io riesco a fare la cavancata delle valkyrie così capito ma si Giulio si è incompreso perché hai fatto il pirata potrei darti alla musica oh che succede dove siamo long cove long cove cava da sola impossibile l'unica cava Giulio ed è notte potrebbero esserci mostri orribili Giulio non prendere iniziative con le vele te lo dico io quando togliere Giulio stai fermo rimetti quelle vele Luca il timone non si lascia mai ha lasciato il timone Luca ma te l'ho toccata io metti l'ancora metti l'ancora fermati girare tutto girare tutto io l'ammazzo io l'ammazzo cioè capito lui è il capitano prendi si gira se ne va a fanculo ma che cazzo fai Giulio la lanterna perché va al buio Giulio dove vai dove vai dobbiamo andare insieme oh è illuminato oh che c'è qua una specie di base ma qui dobbiamo andare in safe ma che non è forte Giulio non è che dobbiamo andare in safe è che dobbiamo andare insieme insieme dobbiamo andare in safe hai detto Giulio ma oh oddio oddio che succede Giulio che succede lo schienetro dove sei Luca vieni al centro vieni al centro all'isola oh vedo che ti sparo Luca mi spara sta dietro di te sta dietro di te da qua venivano da là Luca oh oh ma dove mi hanno sparato non li ho visti ma come era un tuono scappa sull'anare ma come era un tuono ma come era un tuono ma sono stato quasi da un pulmine è bruciato per terra Luca davanti a me spara Giulio spara Luca lì senti questi rumori non mi piace oh eccolo là ok l'ho fatto fuori Giulio ho fatto fuori pure io il mio grazie Giulio mi hai salvato la vita ma non c'è niente su sta isola un po' di sole Luca Luca che c'è il timone si è girato da solo Luca che vuol dire il timone si è girato da solo guarda la bussola Luca che sta succedendo Giulio che sta succedendo guarda il timone il timone Giulio andiamo a vedere questa isola maledetta il più presto ho l'impressione che si è arrivato qualcosa di brutta devi aspettare Giulio sta arrivando qualcosa di brutta è stato questo verso questo punto qua no si vai dentro la tempesta Luca vai dentro la tempesta vai dentro Giulio sta impazzendo sta impazzendo la bussola è impazzita non capisco dove stiamo andando oh mio dio Giulio ma una tempesta ma una tempesta Luca isola a babordo Giulio è quella dove siamo arrivati quella ma come stai guidando stiamo girando a 360 Luca vieni sotto coperta si abbandona il timone sta arrivando guarda guarda la traiettoria della nave guarda stai girando intorno qua guarda lascia il timone che vado tornare a te che succede ce li sto appellando oh mio dio oh mio dio dove c'è un fortuna oh mio dio cosa qua è uno tsunami giù c'è una bomba gigante lì davanti oddio 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 che cosa è sta Luca sto per vomitare sei caduto in mare? no sono ancora qui giuro ti pare che cado in mare non ho la mia intenzione di cadere in mare ragazzi chi volete come capitano votate nel sondaggio e nei commenti perché qui c'è una faida in corso e io voglio essere il capitano mentre anche Giulio vuole esserlo solo che lui è nero Giulio ti spengo le luci se non stai zitto eh cazzo ti spengo i fari arriva la polizia del mare e ti fa la multa lo sai a che cosa servono quei fari? no quelle sono le frecce ah ok aspetta se gira a destra vai falle lampeggiare falle lampeggiare Luca Giulio la sto facendo lampeggiare a sinistra vai Giulio è tempo che guidi io oh che è successo? ma ha messo in mano sto coso? che è sto rumore? Luca? che è? che è sto rumore? Luca il kraken? come il kraken? no che succede? Giulio la lampe? perché è sott'acqua? Giulio stiamo sprundando abbiamo percazzato perché? Giulio che succede? Luca aiuto Luca che succede? aiuto aiuto no Luca non voglio affondare con la nave Giulio sono dentro mi sto portando a fondo che è successo? Luca mi sta portando a fondo anche a me ma che è successo? Luca non riesco a dammi ma ce l'hai controllato che non stessimo imbarcando acqua durante la tempesta ma io ti ho lasciato il timore a te un secondo un secondo ma perché funziona ancora il violino sott'acqua? suoniamo in memoria della stessa senti la musica è bellissima Giulio in memoria della nostra nave allora io vorrei far notare in vista del sondaggio come Luca abbia avuto in mano tre secondi il timone e la nave si è affondata ragazzi ma se hai fatto in tre c'è tanto durante la tempesta è colpamento ma non è vero l'hai prestato la nave dai finché ce l'ha avuta io non è successo l'ha avuta lui un secondo e ha affondata la nave raga oh mio dio sto piangendo ma c'è un tesoro su sta isola ma il tuo tesoro è che ci sono io con te qua a navigare perché se no chi trova un amico trova un tesoro Giulio e per te questa cosa è proprio l'hai l'hai impersonificata sto detto ma è vero ma io voglio il tesoro vero Giulio non voglio te come tesoro mi fa schifo ragazzi hai capito io lo faccio schifo mi fa affondare la nave Luca Luca va bene vorrei dire che mi farò una zattera con le tazze e userò peri umani per legare la zattera Giulio torno e ti prendo al volo fatti trovare preparato non voglio che arrivo là poi si sono pronto si ok poi scendo dopo mezz'ora io con la barca sotto casa e questo deve ancora scendere Luca dove cazzo vai sto tornando a prendere ma dove è vero dove cazzo sta Giulio non è la macchina non posso fare la retromarcia adesso l'ha scoperto capito adesso l'ha scoperto io non giocherò più a questo gioco con Luca Capitano no giocheremo ancora ci faremo anche una serie se vorrete quando uscirà il gioco perché adesso è in beta Giulio sto tornando sali al volo ma dove vai sali al volo oh mio dio ci sono dei cazzi Giulio butta l'ancora butta l'ancora non posso volare il timore oh mio dio io ti giuro ho sperato che prendessi in piano l'isola guarda ti dico subito se l'ho presa vado a controllare i danni che succede? mi ha preso un un fulmine un fulmine di appena contigo ma che ce l'hai con me dio perché mi stanno colpendo i fulmini ma basta ma basta questo è il destino neanche il gioco vuole che tu fai il capitano ah si imbarchiamo acqua ma come imbarchiamo acqua ma che cazzo perché è questa lascio un attimo il timone e vengo a controllare luca il capitano non lascia mai il timore adesso dopo l'isola giri a destra giri tutto a destra dopo l'isola ah interessante giulio ma c'è la chicken eye c'è la chicken eye ma che cosa stai facendo qua luca non so tranquillo perché ci sei tu giulio ti ho detto di andare tranquillo molla molla tutta ce ne fa l'ancora volevo parcheggiare al meglio che cazzo io vi giuro io lo ammazzo guarda qua guarda i bugi io lo ammazzo lo ammazzo stavo imbarcando acqua stavo andando bene stavo imbarcando acqua ho trovato il tesoro giulio raccoglie il forziere dei rimpianti ma mio dio cos'è giulio ho trovato un forziere bellissimo che mi sa di premium luca la barca non c'è più è ancora qui la barca giulio non dire minchiate e allora entra dentro perché sicuramente sta imbarcando tanta acqua cosa vuol dire sta imbarcando no 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 sta sprofondando giulio di merda ho trovato il forziere cazzo perché l'hai fatto arrivo arrivo ma non è affondata giulio è affondata usa il secchio giulio usa il secchio c'è tutto il mare dentro perde acqua vado dalla sirena vado dalla sirena lo vedo lo vedo lo vedo ma pure in piedi perde acqua vado a cercare se ci sono altri tesori o mi nascondo prima che arrivano altri mi fottano il tesoro questo è il mio tesoro il mio tesoro giulio torni e mi ritrovi come gollum col forziere in dieci minuti siamo riusciti a far affondare una di tre volte grande giulio tu sei riuscito a far affondare una di due volte io prima l'ho fatto affondare giulio certo non c'è più niente sull'isola l'ho esplorata da cima a fu un altro forziere col canchi che non c'è più niente io mi sento solo mi sento abbandonato a me stesso qua dai giulio che non c'è una abbastanza banale su questa isola per tutti avete avuto prova di chi votare fino adesso dovete votare ma non so come funziona la mappa non so come funziona la mappa allora come fai a navigare puoi anche saper fare i tre six con la nave ma se non se va andiamo eccolo giulio frena frena giulio cristo santo metti quell'ancora addio 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 va oh mio dio ecco e poi dice a me poi dice a me senti che piange ma piangi le prodotte si è un nero è ovvio che piange le forzioni dei rimpianti fa mettere un'acqua no 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 via via non piangere non piangere non piangere giulio lo tengo qua sopra lo tengo qua sopra così non possiamo imbarcare acqua luca continuiamo a imbarcare acqua ciò significa significa che è un forzione super raro apparentemente è tutto a posto qua sotto giulio l'altro luca controllo luca ci mette tipo tre secondi a riempire la nave proponi viaggio giulio ecco come faccio da qua dalla tavola qui si mettono le missioni proponi viaggio ragazzi nel prossimo episodio proveremo un viaggio emozionante per la scoperta di tesori successa a luca non è mai emozionante ragazzi ve lo dico giulio è emozionantissimo quante risate ci siamo fatti oggi io non mi so affatto risate tant'è tant'è che infatti il karma che cosa è successo ci ha fatto trovare il baule del pianto siamo arrivati avamposto plunder quest ok me la faccio a nuoto io giulio ma che cazzo stai a fa giulio vai tranquillo non voglio che affondi la barca non glielo permetterò questo scrigno ma che stai a tutti siamo arrivati giulio non glielo permetterò questo scrigno di affondarci la barca mi faccio il resto del viaggio in mare oh l'ho trovato eccolo qua quello che vuole tesori vende i forzi di rimpianti l'ho venduto giulio vediamo quanto ci dà forzi di rimpianti quanto ci dai 300 giulio 300 monete ragazzi che dire per questo video su sea of thieves è tutto le avventure di giulio e del capitano fanto riprenderanno prossimamente non sei un capitano non sei un capitano sono io il capitano decidete voi chi sarà il capitano nella prossima avventura perché è importantissimo qua c'è una diatriba di fondo spero che il video vi sia piaciuto noi ci vediamo a un prossimo video ciao ciao